Mi dovete perdonare se da poco più di 15 giorni, se non 15 giorni, stiamo riflettendo sulla morte. Però vedete, è un argomento su cui nessuno vuole riflettere, iniziare da noi cristiani, iniziare da me. Eppure io scopro che riflettere sulla morte mi aiuta a vivere bene, mi aiuta a vivere meglio. Lo dicevano e lo dice anche tuttora la saggezza indiana. Quando tu rifletti sulla morte, tu rifletti come vivere bene la tua vita. E più o meno la stessa cosa lo stiamo dicendo vivendo questa esperienza da non credenti, perché abbiamo detto che ci sono anche quelli che non hanno fede. E il dolore comunque ci accomuna tutti. A me sembra che uno dei modi per poter affrontare, sia da credenti che hanno fede nella risurrezione, che hanno speranza della vita eterna, ma anche da chi non ha fede, il miglior modo di affrontare il dolore della morte è saper stare in quel dolore. Perché il dolore non va né negato, né nascosto, né esorcizzato. Il dolore va accolto. Occorre saper stare nel dolore. Come per esempio, mi viene in mente una mamma, che è la mamma di tutti, ma che in questo caso può diventare veramente la mamma di tutti, anche di chi non crede, quella donna, quella mamma, Maria, che ha saputo stare nel dolore, lì, sotto la croce, accompagnando il figlio Gesù. E quanti esempi di mamme abbiamo che stanno stare nel dolore? Sia dei figli quando soffrono, ma anche quando hanno lutti, come la perdita di un figlio o del marito. Saper stare nel dolore. Oppure una famiglia, quando viene a mancare la mamma o il papà, si deve unire, si unisce per saper stare e vivere nel dolore. Ma ascoltiamo Epicoco, che parla appunto della capacità di saper stare nel dolore facendo un salto. E qui, chiaramente, noi parliamo di più ai credenti. Ma chi non crede può senz'altro riflettere. È il salto della fede. Ascoltiamo. Solo quando la manganza, quindi la manganza della persona, spinge a decidersi a vivere diversamente la vita, allora la morte ha perso la sua partita. Quando la morte di una persona cara mi spinge a vivere in pienezza e meglio la mia vita, anche se io non credo alla resurrezione, sconfingo la morte. Perché vedete, chi sconfigge la morte non è la vita, ma è l'amore. Perché la vita umana termina. L'amore mai. Finché la morte produce morte e desiderio di morte, continuo a dominare e a tenere prigionieri anche coloro che abbiamo amato. Quindi, solo quando io do questo senso al dolore, il dolore diventa fecondo. E quando il dolore è fecondo è la mia vita migliora. Perché anche è a partire e nonostante la mancanza dalla persona amata la mia vita migliore è allora che il dolore diventa fecondo perché l'amore non viene tradito. Noi ci vediamo domani Parli Pio TV Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Grazie a tutti!